Calcoli zero, noi abbiamo rispetto di tutti, sicuramente l'Empoli è una delle squadre più forti della Serie B, nel percorso come noi hanno avuto qualche problema e perciò è una squadra per me molto forte, molto molto forte. Lo sappiamo, noi non sottovalutiamo nessuno, ma in B non puoi sottovalutare niente perché il livello è quello, è tutto su per giù, siamo lì, quasi tutte le squadre. In casa e trasferta sicuramente, fuori casa abbiamo preso poco, poco, tre punti abbiamo fatto, sono troppo pochi, però dico che rispetto all'inizio dove abbiamo fatto brutte partite in trasferta, ultimamente per me a Spezia non abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo fatto un'ottima partita che poteva finire diversamente perché abbiamo prodotto qualcosa rispetto ad altre di più. può essere un fatto di personalità, non lo so, sicuramente dobbiamo fare qualcosa di meglio perché sennò facciamo fatica. Sul mercato ci sarà sicuramente qualcosa da fare e come tutte le squadre dall'inizio a fine dicembre prendono delle informazioni e queste informazioni poi determineranno il mercato, sicuramente faremo qualcosa anche noi. Noi abbiamo tanti attaccanti forti, con caratteristiche precise, perciò magari ci manca una caratteristica, uno che rimane dentro l'area, ci manca un po' questo, un pochino di più, però i nostri attaccanti sono forti. Poi a dicembre, quando arriviamo a dicembre, che fermiamo tutto, che valuteremo anche noi queste cose, valutiamo tutto. Ho detto, ho attaccanti forti, bravi, però tanti simili, magari potremmo avere qualcosa di... Ma la società, tutti noi sappiamo che se dobbiamo fare qualcosa, la dobbiamo fare per qualcosa di super, se deve venire, perché i nostri attaccanti sono forti. Se troviamo qualcosa di super che viene, magari faremo un discorso, potremo farlo, non lo so, però oggi ci è mancata pure un po' di fortuna. A Spezia abbiamo tirato, abbiamo preso dei pali, abbiamo fatto qualcosa, perciò non lo so.